Ogni giorno nel mondo 137 donne vengono uccise da un familiare. Una violenza che attraversa tutti i paesi, analizzata in Italia dalla Commissione Parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, preseduta dalla senatrice Valeria Valente, che oggi ha presentato la sua relazione sulla risposta giudiziaria a questa strage nel biennio 2017-2018. Se il convegno si chiede dove sbagliamo, è la Presidente del Senato, Alberti Casellati, a dare la prima risposta. I femminicidi non sono quasi mai delitti d'impeto, ma l'apice di un'escalation di violenze, prevaricazioni, sopprusi, che troppo spesso vengono ignorati, sottovalutati o, peggio, non denunciati. Nessuno si volti più dall'altra parte. Molti gli strumenti a disposizione per bloccare queste violenze, a cominciare dalle leggi. Norme che ci sono, perché, ripeto, è una disciplina abbastanza composita, che certamente ha bisogno di ritocchi, però avrebbe anche bisogno di essere maggiormente applicata quella esistente, con un maggior coordinamento tra tutte le istituzioni. Sono allo studio anche nuove norme. Occorre rafforzare la prevenzione, spiega la Ministra della Giustizia, Cartavia. E il messaggio della Ministra per le Pari Opportunità, Bonetti, lo Stato deve essere accanto alle donne nella ricostruzione della loro libertà.